2, 1, siamo in diretta Benedetta Sì signore, possiamo fare un'intervista? Bene, fate pure, prego Dove era il momento della morte della vittima? Il momento della morte della vittima io ero fuori con degli amici, tra cui Bubba, al bar a prendere una birra E in che rapporti era con la vittima? No, io non la conoscevo la vittima Quindi, ma neanche di vista? No, no, forse per sentito dire, ma niente di... Quindi non è interessato a caso? Beh, no, nel senso, alla fine è un po' relativo all'interessamento Diciamo che essendo in investigatore privato, sì, mi riguarda per la professione, però non mi tocca Personalmente no? No, personalmente no, anzi Va bene, grazie mille, arrivederci Grazie, arrivederci Grazie mille Arrivederci